ciao a tutti amici i laghi carcana perché trota sta uscendo Gio dove siamo? siamo ai laghi carcana oggi è venerdì 17 ma che è venerdì 17? il codiso! Gio ha lanciato per la cronaca e anche san patrizio la festa della birra ah ok vediamo se Gio prende in diretta la trota ne abbiamo già prese un paio belle stiamo aspettando di vedere i risultati cazzo si muove un po niente non è ancora preso primo lancio liscio vabbè adesso prossimo lancio poi lancio io e devi tenere in mano tu telefono che devo mandare devi lanciare sulla bollata giù ho già perso due hai visto il vento dove tira? hai visto? adesso ti mando il telefono vai Davide vediamo se lancia e pesca ho fatto tre lanci vediamo se riesco a prendere la porta vediamo dove sono vediamo se la becca la pesca è in diretta ce n'è tanto c'è una misura che piace a me ecco le ho viste vabbè la pesca in diretta ecco dai che la vediamo Davide che la pesca è in diretta così siamo tutti contenti con pochi contanti eccola la perfetto arriva attenzione sta mangiando sta mangiando ecco la presa in diretta grande Sven come al solito una bella trota guardate che bella grande Sven guardate che bella trotezza e voilà è il trote house il trote house grande Davide solo trote facili